La grande sfida dell'intelligenza artificiale è al centro dell'attenzione dei governi di tutto il mondo che ne stanno valutando rischi e opportunità nell'ambito dei rispettivi sistemi economici al punto che anche l'Ocse ha lanciato una nuova definizione di intelligenza artificiale per orientare meglio le politiche dell'Unione Europea. Ma quali sono gli effetti e l'impatto sull'economia? È un grande onore poterne parlare con il professor Stefano D'Empoli, presidente dell'Istituto per la Competitività, Think Tank leader in Italia e in Europa sui temi del digitale e dell'innovazione. Benvenuto e grazie per essere con noi. Buonasera, piacere mio. Ricordo con sedi a Roma e Bruxelles, autore del libro L'economia di chat GPT, Tra false paure e veri rischi, edito da Egea da pochi giorni in libreria. Siamo davvero onorati di presentare il suo libro. Il professor D'Empoli offre una visione molto più ampia di quello che abbiamo iniziato a capire sull'intelligenza artificiale generativa. Che idea si è fatto delle potenzialità di questa tecnologia che viene associata alla quarta rivoluzione industriale? Io ho deciso di scrivere questo libro fondamentalmente perché non mi riconoscevo con le mie due narrative un pochino imperanti. Da un lato chi riteneva che questa tecnologia fosse così potente da addirittura hackerare il sistema operativo dell'umanità. Questa era un'affermazione in un articolo sull'Economist dello storico israeliano Harari. Ecco, questa deificazione mi sembra oggettivamente eccessiva. Credo che siano gli strumenti però estremamente utili, immaginati come assistenti di noi umani. Non sostituti ma complementari a noi umani. Quindi non mi riconoscevo neppure nella seconda narrativa, che era quella della banalizzazione di questa tecnologia. Si leggevano articoli sui giornali in cui si riportavano i risultati, insomma, delle queries, ossia delle domande che venivano fatte a ChartGPT, in cui usciva fuori risposte spesso banali, spesso, alcune volte, infondate. E sappiamo che c'è effettivamente il tema delle cosiddette allucinazioni o confabulazioni, come meglio si dovrebbe dire, sì, però rimane, insomma, uno strumento estremamente potente. Poi, naturalmente, non c'è solo ChartGPT, ci sono altri strumenti. Però, diciamo, ChartGPT, ovviamente, dalla sua uscita, il 30 novembre del 2022, è stato un po' il simbolo principale di questa rivoluzione. Il libro è illuminante e ricco di informazioni, perché, tra l'altro, ripercorre la storia della rivoluzione in atto. Quali sono gli aspetti di maggior rilievo sulle implicazioni economiche future di ChartGPT? Beh, innanzitutto, la cosa straordinaria, secondo me, di questi strumenti, è naturalmente la facilità d'uso. Io, appunto, nella prefazione del libro, dico che questo tipo di rivoluzione è un po' come la riforma protestante, insomma, ovviamente, qualche secolo fa, ossia ha disintermediato, in quel caso, insomma, erano la classe sacerdotale, in questo caso erano i sacerdoti, l'informatica, cioè gli informatici. Ecco, l'intelligenza artificiale, fino a questo tipo di strumenti, era ufficiata, insomma, dagli informatici, e quindi erano loro, in qualche modo, nella cabina, insomma, di regia, a dover dare i comandi. Rimane così per tutti gli altri tipi di intelligenza artificiale. Ricordiamo, l'intelligenza artificiale generativa è una parte dell'intelligenza artificiale, e però, ecco, su questo ciascuno di noi può fare le domande a ChargerPT o ad altri strumenti senza bisogno di ricorrere ad informatici. Questo non significa, naturalmente, che, come dire, sia il rilevante conoscere lo strumento, capire quale sia la domanda più giusta da fare a questi strumenti. Sappiamo che c'è, insomma, una vera e propria ingegneria del prompting, come viene chiamata, però rimane il fatto che è uno strumento estremamente accessibile. Quindi lei collega l'impatto economico e le implicazioni future sull'economia al fatto che si tratta di uno strumento che viene adesso utilizzato su vasta scala? È la combinazione di due cose. Da un lato la facilità d'uso e dall'altro l'estrema sofisticazione che in molte circostanze questo strumento ha. Cioè il fatto di poter fare delle cose che a una persona umana richiedono spesso molte ore, se non giorni, se non settimane, in pochi secondi o minuti, come dire, è straordinario. Poi, dopodiché, non sempre il risultato è quello ottimale, non sempre è perfetto. Per certi versi, dico io da economista, viva Dio, perché se fosse perfetto vorrebbe dire che non avremmo nulla da poter fare noi umani. Per fortuna non è, in certo senso, non è perfetto. Ha bisogno, a mio avviso, della supervisione umana, ha bisogno del più che noi umani possiamo dare e per fortuna continuiamo a dare e potremo continuare a dare, a mio avviso, ancora per molto tempo, almeno. Il fenomeno, peraltro, è esploso nell'ultimo anno. Quindi lei ha già rilevato delle evidenze di carattere economico quantificabili? Assolutamente sì, già ci sono stati diversi casi, esperimenti. Ovviamente siamo ancora in una fase preliminare, quindi non sono cose ancora del tutto conclusive. Però ci sono delle cose interessanti, ad esempio questa è la prima automazione nel corso della storia che sembra non andare contro i soggetti più deboli, più fragili, insomma con meno competenze. Ma sembra anzi addirittura riequilibrare le competenze che naturalmente poi pone tutta una serie di domande che possono preoccupare altri soggetti, i cosiddetti colletti bianchi, che magari erano un po' più risparmiati dai processi del passato. Però è, credo, importante, perché noi abbiamo sempre detto che la tecnologia, sì, ovviamente rappresenta un progresso, siamo contenti di questo, però dall'altro lato ha delle conseguenze in termini di disuguaglianze sociali importanti. In questo caso, mi sento di dire, potrebbe essere un pochino diverso il quadro e questo potrebbe essere un pochino più rassicurante sotto questo profilo. Una domanda che mi sorge spontanea. Il libro è titolato L'economia di chat GPT. Ma perché si è focalizzato proprio su questo strumento? Beh, ve lo dicevo prima, è un po' il simbolo, è sicuramente la killer application dell'AI generativa fino ad ora. Poi magari, insomma, emergeranno altre cose più potenti, più significative. Però, insomma, sicuramente il mondo, ci sono alcuni che dicono, insomma, il mondo prima del 30 novembre 2022 e il mondo dopo il 30 novembre 2022, ossia la data in cui c'è GPT entrato. Non c'è stato nulla di paragonabile negli ultimi 15-20 anni. Qualcuni citano, insomma, il lancio dell'iPhone come ultimo momento così di grande eccitazione, insomma, su un singolo prodotto tecnologico. Bisogna però imparare ad usarlo, no? Bisogna assolutamente imparare ad usarlo e non è scontato. Ecco, l'apparente facilità d'uso, in effetti l'estrema accessibilità dello strumento, non significa che lo si utilizzi bene. Sono due cose molto distinti. Che consiglio dà? Beh, il consiglio è, naturalmente, insomma, quello di... Beh, diciamo, il primo consiglio, insomma, è quello di sperimentare. Io sento spesso, insomma, persone che dicono, magari sono scettiche, però poi dicono, no, però non l'ho mai provato. Comunque, magari l'ho provato solo, ne so, sei mesi fa, otto mesi fa e non ho... In realtà poi, tra l'altro, la tecnologia migliore... Sta diventando molto interessante anche l'utilizzo di chat GPT per la traduzione simultanea in tutte le lingue. Cosa ne pensa? Beh, quello è, tra l'altro, diciamo, questo tipo di modelli, insomma, che si basano su un'architettura, diciamo, che è chiamata transformer, nascono proprio dall'esigenza di migliorare le traduzioni. Quindi la traduzione è proprio il campo, diciamo, di prima applicazione di questo tipo di strumenti di intelligenza artificiale generativa, che poi si sono espansi, diciamo, ad altre cose. Beh, questo, insomma, credo sia straordinario. Straordinario, ad esempio, immaginare, insomma, io ho scritto un libro qualche anno fa, avendo in mente soprattutto le piccole e medie imprese italiane che esportano all'estero, ecco, immaginare delle imprese, appunto, piccole, magari non dotate, insomma, di grandi capitali o grandi risorse umane per fare il marketing e quindi sbarcare, insomma, all'estero, poter semplificare in maniera drammatica, insomma, come dire, a livelli qualitativi molto alti dei piani di marketing, rivolti potenzialmente verso tutti i paesi del mondo, insomma, in tutte le lingue del mondo, questo è incredibile. Poi, è chiaro, come dicevo prima, serve sempre della supervisione, quindi non è che uno digita e ha tutte le soluzioni nel mondo, però sicuramente aiuta moltissimo. Tra un po' arriviamo anche alla questione delle regole, però lei pone a monte una questione fondamentale, cioè si chiede qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sulla crescita. Che risposte possiamo darci? Allora, è troppo presto per poterlo dire. Certamente c'è un dato di fatto, cioè che finora la rivoluzione informatica non ha dato risultati attesi in termini di crescita. Ci possono essere varie spiegazioni perché questo sia accaduto, però diciamo è un dato di fatto, cioè se si vede il trend della produttività storico, si vede che a parte diciamo un decennio che poi è coinciso con l'ascesa della cosiddetta New Economies, ma a cavallo del secolo, tra la fine diciamo del secolo scorso e l'inizio di questo secolo, che però è stato alla fine un po' un fuoco di paglia, perché insomma si è esaurito in alcuni anni, non c'è stato un impatto sul PIL. Ora, la speranza che naturalmente ci sia, aiutato diciamo da anche un'adozione magari più veloce insomma di quello che c'era in passato, grazie proprio a questa facilità d'uso e ovviamente alla bontà di queste tecnologie. Senta, la complementarietà uomo-macchina è un altro aspetto chiave da chiarire. In che misura è possibile massimizzare i benefici e ridurre i rischi? È una domanda complessa, secondo me dipende molto anche dall'atteggiamento dell'impresa, cioè di chi domanda lavoro. Sono un po' preoccupato e lo cito insomma in libro da alcune imprese insomma anche grandi multinazionali non italiane le quali hanno deciso di insomma mettere a sospendere insomma le assunzioni in attesa di capire se possono rinunciare insomma una parte della propria forza lavoro e quindi delle potenziali assunzioni che avrebbero fatto insomma senza l'intelligenza artificiale che questo credo sia un atteggiamento sbagliato certamente ci possono essere insomma alcuni riequilibri su alcune funzioni insomma un po' meno persone su altre quindi occorre sviluppare comunque delle nuove competenze per l'utilizzo di questi strumenti assolutamente sì nel senso che in ciascun lavoro occorrerà lavorare insomma saper lavorare con questi strumenti questo è il messaggio che ha insomma quindi qualsiasi professione se si vuole diciamo progredire insomma migliorare insomma aumentare la produttività occorrerà lavorare con questi strumenti lei è anche membro dell'European AI Alliance forum promosso dalla Commissione Europea per le politiche sull'intelligenza artificiale tra regole e investimenti l'Europa si è sempre molto focalizzata più sulla regolamentazione quale strategia servirebbe in sintesi ma allora l'Europa era partita bene nel 2018 un pochino tardi però bene appunto insistendo su questi due pilastri vedendoli sostanzialmente da un lato come altrettanto importanti diventandoli allo stesso livello e dall'altro anche complementari giustamente che del buone regole influenzano anche positivamente gli investimenti il problema è che poi abbastanza presto si è capito che stava marciando abbastanza velocemente sulle regole relativamente velocemente che poi ancora siamo alle fasi e le battute finali dovremmo chiuderle entro le fine dell'anno per le AI Acta quindi la grande regolamentazione dell'intelligenza artificiale in Europa sulla quale l'Europa arriva per prima e dall'altra però sugli investimenti non c'è stato un largo sforzo nonostante ci si fosse messi insieme commissione stati membri per coordinare gli investimenti dell'intelligenza artificiale poi di fatto ognuno è andato un po' per la sua strada il governo italiano ha già detto che vuole investire sulle start up quindi è un buon segno è un buon segno anche se l'Italia tuttora non ha a mio avviso una vera e propria strategia speriamo che questo governo riesca a dare finalmente una vera strategia al nostro paese sull'intelligenza artificiale bene con il vostro contributo immagino grazie grazie professor Stefano da Empoli presidente di ICOM istituto per la competitività grazie per il libro l'economia di chat GPT lo possiamo rivedere tra false paure e veri rischi edito da EGEA buon lavoro grazie grazie mille grazie grazie a voi per averci seguito arrivederci grazie a tutti